Continua il tour civico di cittadinanza attiva, oggi siamo a Sapri con il sindaco architetto del medico che ci parlerà dei provvedimenti che prenderà. Iniziativa positiva questa di cittadinanza attiva che accogliamo con grande piacere, gli impegni sono quelli che abbiamo riferito al tavolo, proviamo a muoverci su due grandi tavoli di rivendicazione, uno quello che riguarda la sanità, il presidio ospedaliero e l'emergenza sul territorio e l'altro quello sul sistema dei trasporti. C'è tanto lavoro da fare ma è importante che ci sia una voce a ricordare a tutti, a noi amministrazioni e ai cittadini quanto è importante il presidio ospedaliero, quanto è importante la sicurezza sanitaria sul nostro territorio e quanto è importante che le istituzioni si facciano portatori di questo interesse sano rispetto alla sanità. E' quindi in questo senso una disponibilità piena a lavorare e a continuare in questo percorso di rivendicazione e di tutela del diritto alla salute dei nostri cittadini.